Io do il benvenuto all'amico Stefano Casagrande da Belluno, buonasera Stefano Buonasera a voi, buonasera, grazie dell'invito Grazie mille per essere qui Stefano, siamo in un periodo come vediamo alle tue spalle, siamo proprio nella strettissima attualità Io voglio ringraziarti per essere qui anche perché sei reduce da una bella organizzazione come si suol dire Perché io vedo alle tue spalle e lo mostro anche in grande ai nostri amici, diciamo la locandina possiamo dire Sì esatto Un evento che si è tenuto quattro giorni fa, di cui abbiamo parlato in apertura di trasmissione, la lunga notte delle chiese Stefano noi ne parlammo già qualche tempo fa con l'amica Ernestina che ci ha mandato anche un video e salutiamo ovviamente Ma adesso ci sei tu organizzatore dall'Italia di questo evento, di che cosa si tratta Stefano? Allora, la lunga notte delle chiese è, possiamo definirlo un festival, è una giornata barra una notte, una notte bianca In cui i luoghi di culto aprono le proprie porte a tantissime iniziative diverse Che spaziano dalla musica all'arte, alla cultura, alle visite guidate Ogni chiesa, luogo di culto che partecipa, la possibilità di partecipare con una programmazione che decide autonomamente E l'obiettivo appunto è quello di creare questa grande rete di luoghi di culto Che per un giorno aprono le proprie porte alla collettività, alle comunità Per dare un segno di apertura verso l'esterno Per dare un segno proprio di partecipazione anche alla vita pubblica della comunità Perché comunque i luoghi di culto appartengono ad un quartiere, ad un territorio E quindi fanno parte della comunità in cui le persone vivono E' nata nel 2016 nella diocesi di Belluno in Veneto con quattro chiese del centro E quest'anno giunta alla quarta edizione con devo dire mia grande sorpresa Ma anche speranza insomma ha avuto questa crescita così molto rapida E appunto quest'anno hanno deciso di aderire più di 80 diocesi in tutta Italia Sono oltre 150 luoghi di culto che sono stati aperti in ogni regione Quindi veramente tantissimi E questa appendice che abbiamo avuto appunto anche in Sud America Con la partecipazione appunto dell'Argentina, del Brasile, dell'Uruguay E anche in Romania, in Europa Per cui una crescita devo dire molto rapida Che da ben sperare anche per il futuro Tra l'altro Stefano ecco sto mostrando proprio la parte finale del sito Che è lunganottedelechiese.com dove ci sono informazioni Tu coordinatore per l'Italia e poi Ernestina per il Sud America Tra l'altro sul sito in rosso in basso c'è scritto quinta edizione venerdì 5 giugno 2020 Neanche il tempo di chiudere l'edizione 2019 Che già siete proiettati al futuro Cioè il futuro praticamente è già presente possiamo dire Sì abbiamo appunto già ipotizzato insomma quella sarà la data del prossimo anno Perché devo dire che c'è tantissimo entusiasmo appunto nelle realtà Che hanno aderito quest'anno Io sto cominciando a ricevere già i primi feedback Che sono tutti molto positivi Di soddisfazione di come è andata l'iniziativa quest'anno nei vari territori E per cui già c'era la richiesta di capire quale fosse appunto la data dell'anno prossimo E ecco per cui abbiamo pubblicato sotto nella barra Il 5 giugno 2020 sarà appunto l'anno prossimo La data ufficiale per tutti quanti Perché rimane la data unica per tutte le realtà che decidono di partecipare Poi ci saranno molte sorprese per la prossima edizione Che magari sveleremo un po' alla volta Perché è anche giusto insomma adesso concentrarci un po' Sui risultati ottenuti quest'anno E poi durante l'estate cominciare un po' a pensare anche al tema dell'anno prossimo Perché anche l'anno prossimo verrà lanciato un tema insomma Tra l'altro c'è la pagina Facebook che è Lunga Notte delle Chiese Il sito ufficiale lo abbiamo ricordato C'è un canale YouTube E quindi tutte le informazioni sono facilmente reperibili Stefano noi potremo sentirci anche più avanti Magari appena avete informazioni possiamo risentirci per dare qualche aggiornamento E perché no anche per rilanciare un po' di materiale video Perché noi a breve partiremo con una programmazione 24 ore su 24 Per cui avremo la possibilità di trasmettere a flusso continuo Quindi se avete materiale anzi potremo creare proprio degli speciali di questo bellissimo evento Che lega appunto l'Italia e il Sud America Ecco perché patrimoni italiani all'estero Oltretutto io devo ricordare che gli amici bellunesi sono molto attivi nel mondo E siete tantissimi e siete molto attivi in giro per il mondo È una bella comunità molto unita Per cui anche questa è una cosa che vi fa molto onore E sono contento di essere in contatto con te E in rappresentanza appunto della comunità bellunese Non vedo ancora materiale Ovviamente starete lavorando Stiamo accogliendo Sì ci sta arrivando proprio in questi giorni Tutte le foto, i video che sono stati realizzati Per cui credo che dalla fine di questa settimana All'inizio della prossima Cominceremo a pubblicare un po' le prime gallerie Perché veramente il materiale è tantissimo Ci stavano appunto mandando tutti un po' quello che hanno fatto Per cui credo che nei prossimi giorni tutto sarà reso disponibile online E ovviamente noi rilanceremo quando avrete un po' di materiale Fateci sapere perché oltre alla tv c'è anche il sito Per cui possiamo rilanciare ogni iniziativa che voi porrete in essere Sul sito ci sono gli archivi delle passate edizioni Un sito, ecco lo sto mostrando in questo momento esatto E c'è quella barra rosa in fondo che ci ricorda che mancano Manca poco meno di un anno Perché oggi è l'11 Il prossimo evento è il 5 giugno 2020 Per cui affrettiamoci a dare altre informazioni ai nostri amici Canale anche Instagram presente Con locandine, foto e quant'altro Stefano veramente complimenti Una bellissima iniziativa Chissà che l'anno prossimo non riusciremo a seguirne Almeno una parte in diretta Magari creare un evento Sarebbe bello Magari in ponte con l'Argentina Perché ci intriga questa connessione Benissimo Stefano io prima di salutarti e ringraziarti di essere qui Volevo chiederti un saluto A questo punto ovviamente in bellunese anche Perché ci saranno tanti bellunesi che ci seguiranno E non so in spagnolo ti viene facile fare un saluto? Ma allora in spagnolo in realtà Credo di conoscere hola Insomma Credo che possa bastare Ci rivediamo spero presto Perché insomma abbiamo tante cose in servo per l'anno prossimo da raccontare Ecco veramente Assolutamente Guarda io lo dico qui Dipende da voi Noi ci siamo E siamo assolutamente a piena disposizione Anche per fare più di un servizio Per creare anche una serie di appuntamenti di aggiornamento Perché a quello che ho capito insomma Questa iniziativa è creata diciamo Da qui all'anno prossimo Diciamo seguendo degli step Perché chiaramente già avete dato un appuntamento Per cui già c'è una data Per cui ci saranno anche altri step E noi saremo ben lieti di seguirli passo passo ecco Quindi conto volentieri Bene Bene Grazie Grazie dello spazio che ci avete dedicato Che è sempre molto importante poterne parlare insomma Perché aiuta a farlo conoscere Assolutamente Con grandissimo piacere E allora amici di Patrimonio Italiano TV Io voglio ringraziare e salutare l'amico Stefano Casagrande Per averci raccontato di questo evento che si è tenuto il 7 giugno La lunga notte delle chiese Prossimo appuntamento 5 giugno 2020 Grazie mille Stefano Grazie Grazie E buona serata Grazie Grazie a tutti